Marco ha venduto la sua macchina Sara è andata al cinema Maria ha comprato le scarpe nuove i miei amici sono andati in italia anche le sue amiche sono andate in italia loro hanno visto quel film già due volte voi avete già mangiato vero noi tutti siamo andati al parco ieri Maria quando sei tornata dall'italia Maria quanto pane hai comprato grazie 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 grazie